Non ha ancora una forma precisa ma già riporta l'opposizione sulle barricate. La notizia è quella di un gruppo di 007 della regione chiamati a far luce su due anni di emergenza sanitaria e passare al setaccio gli atti firmati dall'ormai ex numero uno della protezione civile Mario Lerario. Se ne sa ancora poco, ne sanno ancora meno a sinistra, ma dovrebbe trattarsi di una task force formata da una quindicina di persone in tutto. Sotto la guida di Roberto Venneri, responsabile della sezione anticorruzione dell'ente di Via Gentile è atteso nelle prossime ore in audizione nella commissione del presidente Renato Perrini. Dovrebbero farne parte anche il biomei del NIRS, il nucleo ispettivo regionale sanitario al cui timone c'è l'avvocato barese Antonio Lascala. Se per questo anche la commissione bilancio di Fabiano Amati ha annunciato ulteriori accertamenti in quella sede dopo quelli aperti a ottobre con i vertici di protezione civile e dipartimento finiti con la volontà di riaggiornarsi dopo la sessione dei lavori dedicata alla manovra di fine anno per entrare nel dettaglio delle singole spese sul versante politico e il fuoco di fila di Fratelli d'Italia che contestano la stalla. Bisognava chiuderla prima che i buoi scappassero, incaricare una task force dopo aver impedito l'approvazione del nostro emendamento per la commissione di indagini sulla gestione Covid di presa per i fondelli.